come il pronome e aggettivo determinativo is ea id anche i pronomi e gli aggettivi dimostrativi hanno una declinazione propria cioè una declinazione che presenta terminazioni particolari oltre a quelle che possiamo facilmente ricondurre alla prima o alla seconda declinazione questo è vero in particolare per le forme del genitivo e del dativo singolare che per tutti e tre i pronomi e aggettivi escono in ius e in ius per il genitivo singolare i per il dativo nominativo ic questo ec questa oc questa cosa genitivo uius di questo uius di questa uius di questa cosa dativo uic a questo uic a questa uic a questa cosa accusativo unc questo anc questa oc questa cosa ablativo oc con questo ac con questa oc con questa cosa vari complementi nominativo i questi e queste ec queste cose genitivo orum di questi arum di queste orum di queste cose dativo is a questi is a queste is a queste cose accusativo os questi as queste ec queste cose ablativo is con questi is con queste is con queste cose vari complementi indiretti ciao 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 ciao